porto e fare la tua di terza però dargli tanto però devi dargli forte perché già dato ma non abbastanza si deve cedere da lì ma va è uguale uguale a quella di là tanto ci sono le piante che gli attacchi devo rifarla facciamo il bosco si ma dopo andiamo a casa della bazzia e basta andiamo a casa le macchine i furgoni non 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 cazzo arrivo sai cos'è questo è che ti porta via ti porta via la terra sotto è quello è perché cazzo arrivo a metà mi tira contro la pianta e la terra molle è la terra molle che mi porta di lì perché non è possibile che arrivo vedi la arriva a metà mi butto di qua devo darglielo già la prima e dopo lasciata un po mi porta mi porta tutto di qui